Bene carissimi amici, ben ritrovati come al solito sul mio canale YouTube. Un buon sabato sera a tutti voi, siamo nel dopo estrazione di sabato 19 novembre e siamo qui con un'analisi veloce di questa estrazione appena trascorsa. Ricordate bene le mie parole che vi avevo detto che il 90 va in questo mese in ripetizione dove è già sortito. Andiamo a vedere, perché le mie parole trovano sempre riscontro. Un 90, guardate che percorso che ha fatto in questo mese di novembre. Un 90 che era uscito Cagliari-Genova, poi si è ripetuto a Cagliari, poi si è ripetuto a Genova, poi è sortito a Roma il 17 ed è risortito a Roma il 19. Quindi mentre altri presunti studiosi sparano 90 a casaccio, io vi dico le cose come stanno, perché sul 90 ho degli studi molto potenti. E vi ho detto, guardate che il 90 andrà a risortire dove ha già pagato due volte a Cagliari, due volte a Genova, due volte a Roma. Nonostante ci siano altre ruote che lo attendono, ma è andato in ripetizione dove era già sortito. E vi dico che potrebbe addirittura risortire una terza volta sulla ruota di Genova. Potrebbe ripetersi addirittura a Cagliari. Cagliari porta il gemello in terza posizione, quindi Cagliari-Palermo. Guardate che situazione c'è in questa estrazione, poi come i quali estrazionali parlano. Gemello in terza con l'89 esotopo, Cagliari-Palermo, grande annuncio di 90. Milano, gemello in terza posizione con l'89 esotopo a Venezia, anche qui grande 90 in arrivo. L'84, spie il 90, Firenze-Roma. Quindi ancora una volta. E questa è una bellissima situazione. Distanza 1 e distanza 2, ruota di Bari. Quindi Bari è anche forte per il 90. Poi andiamo a vedere se c'è qualche altra distanza interessante. Vediamo un po'. Torino, distanza 1. Torino, Genova, Cagliari. Il mio 90 segreto è ancora caldo. È ancora caldo. Non vorrei che succeda come il mese scorso, che vinciamo il secondo Ambo. Chi non ha preso la previsione, prenda ancora la previsione di novembre e si prenoti per il 90 segreto di dicembre. Il 90 segreto ha totalizzato nell'arco di tre mesi quattro ambi a ruota. E non è detto che non arrivi il quinto. Perché Torino è micidiale. Genova e Cagliari possono andare ancora in ripetizione. Cagliari porta l'1, porta il gemello in terza. Porta il doppio gemello 55 e 33. Ok? Quindi attenzione. Il mio metodo cadenza 0. Vi dissi somma 90 suprema tra le ruote di Palermo-Roma. Vi ho vinto due volte il 90 a Roma in due estrazioni consecutive. 17 novembre, 19 novembre. Previsione ancora in gioco. La sto facendo continuare. Perché è ancora ampiamente in gioco. Data la presenza dell'89 a Palermo, Roma porta 90 e 54. Figura 9 unita. Quindi anche qui sono due ruote che ancora potrebbe arrivare. La ripetizione a Roma e il 90 a Palermo. E diciamo che è un mese molto particolare. Avete visto il 90 sortire praticamente su diverse ruote doppia volta. Cagliari, Genova e Roma adesso. Quindi attenzione. Io questo comportamento ve lo avevo... Chi segue nelle mie analisi... Questo comportamento ve lo avevo annunciato. Questo comportamento ve lo avevo annunciato. Io avevo detto attenzione che il 90 si ripete dove è già uscito. Testuali, parole. Ed è quello proprio che sta accadendo nel quale estrazionale. Quindi valutate bene. Nazionale porta la distanza 1, 5 e 6. Figura 9, 63. Anche nazionale è molto bella. Oltre alla ripetizione su diverse ruote ci saranno delle estrazioni dove vedremo una sfilza di 90. Perché deve arrivare alla grande. Quindi qui entro la fine dell'anno si va a sbancare. Seguitemi perché si va a sbancare. Entro la fine dell'anno. Chi seguirà i miei consigli di gioco. Perché ho degli elementi potentissimi. Notiamo... Vediamo un po'. Abbiamo visto la situazione Venezia-Milano. Con il gemello l'89. Questa doppia situazione tenetela a mente. Cagliari-Palermo-Milano-Venezia. Vediamo ancora un po' cosa possiamo dire. Mi sembra che queste sono le situazioni più eclatanti. Tra l'altro Genova-Milano hanno anche questo doppio gemello 55-88 in prima posizione. Quindi questa isotopia è anche molto bella. E attenzione. Genova-Milano metodo lotto cadenza 0. 80-40 doppio zerato. Quindi il 90 Genova-Milano. Prima e terza posizione. Chi vorrà giocarlo? Vedete anche la distanza 1. 52-53 ruote di Genova e Milano. Quindi anche qui molto interessante. Abbiamo il doppio gemello in verticale. La distanza 1 in verticale. Cadenza 3 in verticale. E lo zerato dal metodo cadenza 0. Quindi un 90 che potrebbe ritornare a Genova. Potrebbe uscire a Milano. Dal mio metodo cadenza 0 abbiamo Milano-Napoli. Quindi chi non ha preso la revisione con i quattro ambi lo faccia perché è potente. Milano porta 73-43. Distanza 1 in verticale con la diametrale 73-74. E ritorna col 72. In diagonale guardate distanza 1. 73-73-72. Bari-Napoli in verticale distanza 1. Guardate che triangolo perfetto in distanza 1. 72-73. 73-74. Quindi Bari-Napoli grande situazione. Vedrete ancora grandi 90 sortire e grandi ripetizioni. Direi che per adesso è tutto. Ci diamo appuntamento all'estrazione di martedì 22 novembre. Quindi abbiamo ancora delle buone estrazioni per il mese di novembre. Abbiamo superato di poco la metà del mese. Quindi dei quadri estrazionali che avranno ancora molto da dire. Quindi seguiamo le giocate con costanza perché all'otto si vince con due armi. Costanza nel gioco e fiducia nelle previsioni. Ve l'ho dimostrato. Vi ho dimostrato anche come i numeri non hanno memoria. Come un numero uscito, come il 90 di Roma, una persona normale non l'avrebbe più giocato. Io l'ho fatto continuare. È uscito di nuovo. Ormai con le Venus le ripetizioni numeriche ormai sono la regola. Si vince con le ripetizioni. Quindi continuare le giocate, continuare i numeri già usciti, porta a grandi probabilità di vincita. Quindi quando vi dico determinate cose mi raccomando ad ascoltarmi. Continuiamo chiaramente tutte le previsioni. Sia ambata perpetua, il 16 Palermo, prima e quinta posizione. E la tabella numeretti con questo 3 in convergenza, Bari-Venezia, Genova-Palermo. Vediamo se ci va a dare un bel lambosecco. Per adesso un saluto a tutti, Mister Sbancolotto.